Ciao a tutti! Oggi succederà una magnifica esperienza, una magnifica avventura su GTA! Yeee! Perfetto! Vai! Ciao, io sono la sorella di Castanino Matteo, faccio tanti altri video con due mi sembra, e io faccio Musical.ly, mettete like se ce l'avete e iniziamo subito. Prima cosa su GTA, non rispettare le regole. Seconda cosa, andare in posti bruttissimi che mi fanno ridere. Poi, andare contro alcune persone. Ok, possiamo iniziare subito online. Siamo online con i miei amici, quindi parlerò. Ecco qua! Vado in macchina, vado a casa, che c'è una cosa bellissima! Sì, Luca, pronto? Sì, e ci troviamo a casa, va bene? Eh? Così andiamo insieme dal benzinaio. No, devi andare a lavare la macchina, perfetto, ci andiamo insieme. Allora, andiamo a casa... Ok... Perca, perca, però, che cavolo fai? Sono le giuste, sono le giuste. Oh, raga, oh, raga, raga! No, scusate... Andiamo a casa... No, che parlare, solo se succede qualcosa di finito... Che vuoi che hai da parlare? Cos'hai da parlare? Che ti sfuri? No, no! No! Oh, cosa vuoi? Cosa volete? No, no! No, no! No, no! No, no! 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 Che bella! Sì, pronto, Luca. Sì, pronto, Luca. Sei già arrivato? Perfetto. Ma sapevi dove era casa mia? Ci vediamo a casa, va bene? Ok, ok. Ah, ragazzi, una cosa, il video durerà 15 minuti, quindi lo faremo in due pezzettini, uno con il nostro amico Michael e l'altro con Franklin, perfetto? Ok, andiamo a vedere, perché alla fine parte non sono più Franklin. Almeno usiamo tutti e due personaggi. Ok, ma... Ok, la parcheggio qua. Vediamo che fighe macchine abbiamo. Forse nessuna, però... Che figata sta macchina, Maria! Guardatela! Chi l'ha avuta sta macchina? Cioè, raga, guardatela! La dovete osservare! Che bella! La macchina che ha... Ops, era già quasi rotta, perfetto! Ah, Luca, dove sei che ti aspetto? Sì, ti seguo nella macchina, perfetto, va bene. Ah, eccoci qua! Eccoci qua! Eccoci qua, Luca, Luca, Luca! Aspettami! Sono dentro di te! Mi vedi? Ecco qua! Ti sembra un po' più veloce! Luca! Ah! Ah! Su, Luca! Su, Luca! Non ci vuole tanto guidare, eh! Capì che rispetti le regole, però... C'è cavolone! Vabbè, rispetto anch'io, facciamo... un... GTA con le regole. Vediamo cosa succede. Eh, dai, vai! E poi il grino, vai, gale! Oh, ti muore, perché devo andare. Andiamo al cinema? Ah, a vedere un filmetto. Ma che fai il meteo? Mettiamo un po' sul cinema. Coglione! Mettiamo un po' sul cinema. Vediamo... Ah, ma tu sei arrivato al cinema. Arrivo. Lui è già arrivato al cinema. Sai, raga, è una cosa... Favolosa. Già arrivato al cinema. Già arriviamo quando arrivo lì, va bene. Ecco, raga, siamo arrivati... Oh, scusate, mi dispiace, non volevo. Suona qui. Siamo arrivati al nostro cinema. Vediamo dove è andato il mio amico Luca. Luca, dove sei? Luca, sono scappati tutti. Cavolino! Sono scappati tutti. Ma dove è il suo cinema? Ho sbagliato il strade. Allora, è là il cinema. Sì. È là. Infatti ho sbagliato il strade. Oh, ma sono scappati tutti. Non tutti. Eh, più o meno. Questo qua si mette in mezzo alle palle. Ah, è Luca. No, scusami, Luca. Scusami. Non volevo, mi dispiace. Ma a chi se ne vedo un po' di divertimento. Oh, l'astronauta! Cioè, questo qua non si può perdere. L'astronauta. Come non viene la polizia? Ah, sì. Ah, io. Vi devo subito nascondere qua! Vai, vai, vai. Crentini! No, ma qua non... Eh, qua, qua, qua. Si ti muove, Crentini, no. Bella, bella, badadino, badadido. Vedo. Qua non mi vedo. Sì. Non arrivare, non arrivare. Fai la prova. Stai arrivando. Stai arrivando. Non arriva. No. Ma che grandi che sono. Vediamo dove erano. Io so. E ma dove esco? Devo rifare il giro. Ma quanto pare. Sì. Si è un tappi macchina qua. E che suona? Cosa suona? Oh, che suona? Oh, ma Luca dove va andato? Luca, mi senti? Sì. Sì. Pazzo. Adesso ve lo faccio salutare qua in casa mia a giocare. Cioè, no, non è qua in casa mia. Però adesso veniamo giù un attimo perché c'è mio nonno qua. Sarebbe mio cugino, no? Luca. Ehi, ciao ragazzi! Sono Luca. E una voce da Mamone. Ehi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Io sono Luca e sono a casa di mia cugina Marcia. No, 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 no. Quella macchina è speciale. Bella di questa. Cosa? Oh, fermi. Ma cosa stai dicendo? Ma sei più bella quella. Andiamo al cinema. Vediamo cosa c'è al cinema. Oh, se vi andate con me prima voi mi offendete. Oh, eh. Se qua parcheggiamo la macchina in un modo orribile. Cioè, non c'è più posto. Non c'è. Eh, ma dove vado? Dove vado? Oh, ma che cosa fai? Cretino! Ehi! Ahahahah! 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 No, 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 no! Ma la fambonna! Ok. Arriviamo. Sennò andrà. Oh, se ne sono giù tutti nel film. Ma ci sto qua stai notando. Sessi qua! Oh, stanno arrivando la pola! Devo entrare. È rimangrendo. Sporre tantissimo. Oh! prepara! Non puoi andare al cinema quando sei ricercato. Eh... BABBONA! Oh, c'è il piloto! Oh, guardate quell'immagine, là! Guarda a vedere! Oh, regga, devo andare! Sono qua gli sbirri! Qua, 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 sento qua! Ci vediamo alla prossima parte! Ci vediamo alla prossima parte con Franklin! Oh!